Siamo con Mr. Fodro, questi tre punti sono pesantissimi oggi, vero? Sì, oggi è stata una grande vittoria. Devo fare un applauso ai ragazzi perché hanno portato a casa una grande partita con determinazione, che è vero, voglia di raggiungere questo risultato. Abbiamo giocato con una delle squadre più forti del campionato e lo evidenzia il fatto che i ragazzi hanno fatto una grande partita e stanno facendo una grande partita soprattutto nelle Muramiche perché abbiamo vinto praticamente dalla terza in poi con tutte le squadre della testa della classifica. Ciò vuol dire che la squadra è una squadra che poteva sicuramente ambire a posizioni diverse di classifica. Purtroppo abbiamo risultati altrenelanti soprattutto in trasferta. Se fossimo riusciti a raggiungere qualche risultato in trasferta più importante probabilmente staremmo parlando di un altro campionato. Siamo con il mister del Sofame. Mister, oggi Casperino ha vinto 3-0 meritatamente, vero? Sì, diciamo che è iniziata male per noi regalando un gol dopo tre secondi. è finita Peccio regalando altri due gol a Gasperino che ha saputo ottenere il campo e noi per oggi dopo un filotto di partite vinte purtroppo è andata così. Diciamo che è andata male per oggi.